Madre Speranza, tanto è che veniva denominata in dialetto la Monica Santa, quindi l'abbiamo conosciuta così. Io avevo un fratello, Nello, nel seminario di Assisi, al metà anno scolastico del 68-59, tornò a casa. E improvvisamente, una sera dopo circa un mese, la madre lo mandò a chiamare, voleva parlare con lui e con mia mamma. Esattamente lo fece chiamare, venne ed è bellicontro con lei, il venerdì santo del 59. La madre le fece capire che desiderava che venisse qui e quindi dove doveva continuare gli studi.